La religione degli indiani d'America non è un'entità unitaria, ma un complesso mosaico di credenze e pratiche spirituali, tanto diverse quanto le numerose tribù che popolano il continente americano. Animismo, la credenza che tutti gli elementi della natura, dagli animali alle piante e agli oggetti inanimati, possiedano uno spirito. Spiritualità legata alla terra, un profondo rispetto per la terra. Considerata una madre che nutre e sostiene tutte le forme di vita. Culto degli antenati. I defunti sono considerati parte integrante della comunità e si crede che possano influenzare gli eventi della vita presente. Cerimonie rituali, numerose cerimonie rituali, spesso legati ai cicli naturali, come i solstizi e gli equinozi, svolgono un ruolo fondamentale nella vita religiosa. Visioni e sogni. Le visioni e i sogni sono considerati mezzi attraverso cui gli spiriti comunicano con gli esseri umani. Medicina tradizionale. L'uso di piante medicinali e di pratiche di guarigione spirituali è strettamente legato alla religione. Principali divinità e figure spirituali. Grande spirito, una figura divina suprema, presente in molte tradizioni, che rappresenta la forza creatrice dell'universo. Spiriti della natura, ogni elemento della natura, acqua, fuoco, vento, terra. È associato a uno spirito specifico. Animali totem. Gli animali sono spesso considerati totem. Cioè guide spirituali che proteggono e ispirano gli individui. Esempi di tradizioni religiose. Poyote, una religione sincretica che unisce elementi delle tradizioni native americane con il cristianesimo. E che fa uso del peyote, un cactus con proprietà allucinogene asterisco Sundance. Una cerimonia religiosa praticata da molte tribù delle grandi pianure. Legata al culto del sole e alla richiesta di pioggia. Potlecce una cerimonia cerimoniale delle tribù del nord-ovest pacifico, caratterizzata da doni e festeggiamenti. Sfide e preservazione. Colonialismo e missionarismo. L'arrivo degli europei e la conseguente colonizzazione hanno portato alla distruzione di molte culture native e alla soppressione delle loro religioni. Rinascita culturale. Negli ultimi decenni si è assistito a una rinascita delle tradizioni religiose native americane. Grazie all'impegno di attivisti e di comunità indigene.